Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di oggi. Una frode fiscale tra Riccione e Cortina passando per il Titano, arrestati due imprenditori tra cui un noto gioielliere e un pubblico ufficiale, la finanza sequestra beni per due milioni. Anche la notte dopo il lancio di una Molotov all'ex vivaio Fabri di Rimini si dormiva ancora denunciate quattro persone per occupazione abusiva. Un luogo simbolico per il saluto di fine anno di prefettura e provincia, quest'anno ospitato alla sede della Caritas diocesana. Calcio in trasferta domani in Rimini sul campo della Torres e il Bellaria a Cuneo, la capolista Sant'Arcangelo, ospita il Monza. Il Natale delle meraviglie è a San Marino. Ogni weekend vantaggiosi soggiorni per tutta la famiglia. L'arte delle luci, i mercatini, gli spettacoli, le animazioni di strada, il villaggio delle meraviglie e Babbo Natale nella sua casetta che attende i bambini, il Capodanno in piazza e poi la cucina tipica delle feste. San Marino, il Natale delle meraviglie. Un panorama unico, romantico, da sogno. Per informazioni visit sanmarino.com. Problemi con le finestre e con la sicurezza? Se vuoi andare sul sicuro, non rischiare! Chiedi una soluzione agli specialisti della Navacchi Infissi, al servizio del cliente da oltre cent'anni. Approfitta anche del risparmio fiscale fino al 65%. Della Navacchi Infissi ti puoi sempre fidare! Conto gratuito per i ragazzi dai 18 ai 26 anni. Scopri vantaggi su Banca di Rimini. Nell'ambito dell'operazione Perla di Cristallo delle Fiamme Gialle di Rimini sono stati arrestati due imprenditori, Riccionese, Alessandro Verni e un imprenditore fanese, insieme a un maresciallo della Guardia di Finanza di Pesaro. Corruzione, frode fiscale e falso i reati contestati, al termine di una complessa inchiesta che si è intrecciata con l'operazione Re Nero, sequestrati beni per oltre 2 milioni. Dichierava meno di 4 mila euro all'anno uno degli imprenditori finiti in manette ieri nell'operazione Perla di Cristallo a fronte di una frode fiscale di oltre 2 milioni di euro, reddito che poi è salito a 56 mila quando sono iniziati i controlli dal 2009 circa, in seguito all'operazione Re Nero, in cui il noto imprenditore riccionese era stato già segnalato. Le indagini della Guardia di Finanza hanno preso il via anche grazie ad una segnalazione del commissario della Banca d'Italia durante il commissariamento della CARIM. Ieri, insieme all'imprenditore, sono finiti in manette il socio e un maresciallo della Guardia di Finanza, responsabile quest'ultimo della creazione di falsa documentazione per evitare i controlli dell'Agenzia delle Entrate, denunciate le mogli dei due imprenditori e un ex direttore di banca. L'indagine nasce dall'approfondimento di alcune linee di credito concesse ad un imprenditore del riccionese che aveva punti vendita anche in Cortina d'Ampezzo e prendendo spunto da queste anomalie siamo riusciti ad estrapolare un complesso sistema di evasione fiscale strutturato anche attraverso la creazione di una società nella Repubblica di San Marino attraverso la quale venivano veicolati i proventi in nero dei punti vendita. Poi questi venivano fatti rientrare in Italia attraverso una simulazione di acquisti fatti dalla società sanmarinese con pagamenti fatti alla società italiana. L'accusa per i tre arrestati è di frode fiscale, corruzione e reati di falso. Di 2 milioni 200 mila euro circa invece il valore dei beni sequestrati per equivalente rispetto alla frode fiscale. I beni, un attico con garage a Riccione, tre terreni, due autovetture, quote di quattro società e disponibilità finanziarie, sono tutti riconducibili all'imprenditore riccionese attivo nella vendita di beni di lusso, gioielli e del wellness tra Riccione, Cortina D'Ampezzo, Pesaro, Fano e Calcinelli di Saltara. A seguito della vicenda della Molotov lanciata giovedì notte all'interno dell'ex vivaio Fabri a Rimini, rifugio notturno per il Senfatetto, i carabinieri hanno svolto un servizio di controllo straordinario nei luoghi abbandonati che si prestano appunto come rifugio per la notte. E proprio all'ex vivaio, in uno dei locali non interessati dalle fiamme, sono stati trovati quattro stranieri pluri pregiudicati, tutti tunesini, che avevano allestito un dormitorio con materiale di fortuna. Sono stati tutti denunciati per invasione di edifici e per tutti risultati irregolari è stata avviata la procedura di espulsione. Continuano intanto le indagini sull'ordigno incendiario. La pista principale resta quella della controversia tra senza tetto per l'occupazione della struttura e sempre nella notte i carabinieri hanno effettuato anche nuovi controlli antiprostituzione. 26 le ragazze identificate, soprattutto dell'est Europa, ma anche cinesi e due italiane. 5 le denunce per inosservanza del foglio di via, identificati anche 9 clienti. Dopo l'operazione Kebab Connection, con i suoi 53 arresti, continua l'attività della Polizia Municipale di Rimini contro lo spaccio a Borgo Marina. Ieri sera è stato arrestato un trentenne tunisino, fermato tra via dei 1000, corso Giovanni XXIII era stato visto in un paio di occasioni cedere ascisce a due uomini poi fermati che hanno rilasciato dichiarazioni in merito. L'uomo era da poco uscito dal carcere. Si è svolto nel pomeriggio il tradizionale saluto di fine anno congiunto di provincia e prefettura di Rimini. Quest'anno una sede nuova e simbolica, appunto la sede della Caritas diocesana in via Madonna della Scala per testimoniare appunto l'attenzione soprattutto a chi in questo momento è in difficoltà a fare gli onori di casa insieme appunto alla Caritas diocesana è stato il Vescovo Lambiasi. Ascoltiamo. Vogliamo essere in sintonia con Papa Francesco. Noi dobbiamo annunciare il Natale del Signore nelle periferie esistenziali e non con chiacchiere vane che potrebbero semplicemente far salire la rabbia dei poveri ma con parole fatti di Vangelo che sono parole fatti di umanità vera. Il Signore ci ricorda che se noi non evangelizziamo i poveri noi tradiamo il suo mandato e quindi vogliamo essere sulla linea di Papa Francesco, di Donoreste, di Alberto Marvelli. Noi vogliamo che il Natale sia il Natale soprattutto dei poveri come fu il Natale dei pastori e quindi vogliamo che questo Natale ci risvegli alla coscienza delle nostre responsabilità e sia davvero un pungolo forte per noi che dobbiamo essere i pastori di questo popolo che si trova in grande difficoltà, in grave emergenza. E delle difficoltà ha parlato anche il prefetto Palomba ricordando però anche i risultati come il lavoro del tavolo anticrisi e il distretto turistico. Il presidente Vitali non ha potuto invece non fare riferimento alla prossima dismissione delle province almeno nel ruolo che hanno avuto finora facendo anche un bilancio di quanto fatto dalla provincia di Rimini e auspicando una svolta per il futuro. Ascoltiamo ancora. Noi abbiamo cercato di cogliere l'opportunità sul tavolo anticrisi e dei risultati sono penso e spero nei prossimi giorni, insomma i primi dell'anno prossimo stanno arrivando il distretto turistico, un accordo con l'ABI nazionale per accessi al credito facilitati, delle agevolazioni anche per la casa. Insomma i problemi sono tanti e anche sulla criminalità si sta cercando di operare al meglio sia le forze dell'ordine sia la polizia municipale nell'ultimo intervento sicuramente molto molto utile per una zona delicata del comune di Rimini sono dei segnali comunque diciamo di una comunità e di forze istituzionali che vogliono affrontare i problemi. Anche in relazione alla vicenda di Eradia c'è stata una bella risposta da parte degli stessi creditori e ci auguriamo che possa arrivare a risoluzione nell'interesse più generale dell'intera economia riminese. C'è un bisogno di ripartire, cioè noi siamo partiti praticamente all'indomani della nascita della provincia di Rimini il primo aprile del 1992 con le grandi infrastrutture del territorio che sono servite a rimettere in strada dal punto di vista economico del nostro territorio e la provincia, non solo comente ma l'essere provincia ci ha aiutato in questa grande impresa e in questo grande miracolo. Oggi questo miracolo ci sta presentando i limiti e c'è bisogno di ripartire dal di qui per trovare una strada nuova per permettere al territorio di continuare a rimanere sul mercato per produrre economia, ricchezza, benessere e la possibilità di uscire dalla crisi non solo prima di altri ma soprattutto meglio di altri e ritornando ad avere un ruolo centrale. Però è chiaro che serve questa volta il contributo non solo del pubblico, come è successo nel 1992-1993 serve un privato che questa volta deve investire. Non importa se è di Rimini, sarebbe bello che fosse un privato che insieme al privato di Rimini riuscisse a prendere il testimone di quello che noi oggi lasciamo. Inoltre dell'ordine è stato presentato al Comando Provinciale dei Carabinieri il calendario dell'Arma 2014. La edizione di quest'anno, quella del bicentenario della Fondazione, come ripercorre le tappe salienti degli ultimi 50 anni, c'è anche una tavola dedicata a Papa Francesco. Una tiratura di 1.300.000 coppie, di cui 8.000 in lingue straniere. Al calendario dell'Arma dei Carabinieri 2014 è affidato il racconto degli ultimi 50 anni di storia nell'anno del bicentenario della Fondazione. In copertina è raffigurata la pattuglia nella tormenta dello scultore Antonio Berti, un'opera che esprime tutto il senso della missione. I carabinieri, che tramandano i valori dell'Arma di generazione in generazione, vincono l'impeto della bufera, avanzando lentamente ma inesorabilmente verso la loro meta. A questa immagine si ispira il monumento che è in corso di realizzazione grazie al sostegno dei comuni italiani e che sarà posto nei giardini prospicenti il Palazzo del Quirinale. Altre tavole del calendario ricordano i soccorsi nei casi di calamità naturali, il contrasto ai sequestri di persona, all'eversione, le missioni di pace nei Balcani, in Afghanistan e in Iraq, con la dolorosa memoria di Nasseria. Viene celebrato anche l'ingresso delle donne nell'Arma avvenuto nel 2000. E c'è anche una dedica speciale a Papa Francesco. La dedica a Papa Francesco non è assolutamente una dedica casuale, perché lega inevitabilmente la storia dell'Arma a Papa Francesco come massimo esponente di quello che è il mondo gesuita, perché il regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri vede appunto tra i suoi realizzatori proprio un appartenente ai gesuiti, quindi padre cristiano chateaubriano. Arriva anche a Rimini la mobilitazione contro la Chevron Texaco, la multinazionale petrolifera accusata di avere devastato con le sue trivellazioni la foresta pluviale Equadoregna. La manifestazione si svolgerà domani alle 14 nel Giardino delle Mimose, a Rimini dietro il Palazzo del Podestà. Per anni le sue trivellazioni hanno inquinato la foresta pluviale Equadoregna nell'assoluto silenzio di tutti. Dopo 20 anni la Corte Nazionale ha condannato la Chevron Texaco a pagare 10 miliardi di dollari per danni ambientali. In primo giudizio nel 2011 erano 18, ma la multinazionale petrolifera non ha ancora sborsato nulla. Lo sfruttamento delle risorse nell'area del lago Agrio ha inquinato oltre 2 milioni di ettari, contaminando la foresta ammazzonica e riversando 60 miliardi di litri di residui tossici nell'acqua utilizzata dalle popolazioni locali. Il governo del paese latinoamericano, il suo popolo, non ci sta. Abbiamo scoperto che dentro di questo pozo c'è una contaminazione molto grande dove i cittadini nostri hanno morto più di 5 mila indios amazonico che la foresta amazonica sta contaminata e inquinata per questa compagnia Chevron Texaco che adesso il nostro governo ha domandato e denunciato all'America e al mondo che si paghino questo debito per il danno ambientale della nostra comunità. In Ecuador la mobilitazione portata avanti soprattutto dagli studenti sta invadendo le piazze e le strade per chiedere giustizia. Una richiesta che sta facendo il giro del mondo e che domani arriverà anche a Rimini grazie alla comunità immigrata ecuadoregna che in Riviera conta quasi 10.000 persone. Ci sarà la possibilità di capire cos'è accaduto e di conoscere da vicino le ricchezze di quel paese. Vogliamo dare un messaggio al popolo europeo, al popolo rivinense, al mondo intero, all'America che dovete sostenere il nostro appoggio di questa solidarietà e incluso invito la domenica prossima a una manifestazione molto grande che faremo nel Giardino della Mimosa a non protestare, a dire al mondo che abbiamo la ragione di questa contaminazione. Dobbiamo unirsi per combattere questa povertà, questa crisi che si sta inquinando, questi ambienti, perché danneare l'ambiente non è giusto. Le nostre notizie di tutto in 100 secondi. Sono Leonella Perfetti, anima del Dei Hospital Oncologico degli Infermi e lo studioso Oreste De Lucca e i due riminesi che saranno insigniti del Sigismondo d'Oro 2013 dal Comune di Rimini. La consegna avverrà nel corso della cerimonia del saluto di fine anno venerdì dalle 17 nel complesso dell'ex Convento dei Servi. Nella notte i gnoti hanno tagliato in piazza San Martino tre melie a Riccione. Una di queste è stata battuta e trascinata in spiagge e sfrondata di molti rami. Le altre due sono state segate alla base con dei tagli ed è stato necessario abbatterle per questioni di sicurezza. Ad accorgersi dell'atto vandalico nelle prime ore di oggi due tecnici di era, le modalità ricordano le tamerici abbattute sul lungomare di Rimini all'indomani del maltempo dell'11 novembre. È il 37enne Gianluca Bernardi Fabbrani il sostituto del dimissionario assessore Antonio Cangiotti nella giunta comunale di Nova Feltria. Avrà le deleghe a urbanistica, politiche energetiche, sviluppo sostenibile, turismo e cultura. Il gruppo di maggioranza insieme per Nova Feltria deplora l'intenzione di Cangiotti della Federazione della Sinistra di sedersi tra i banchi della minoranza invitandola a dimettersi dal Consiglio. Da lunedì al centro delle famiglie in piazzetta dei Servi a Rimini torna 1-2-3 stella lo spazio gioco gratuito per bambini dai 3 ai 10 anni. I piccoli potranno giocare e svolgere attività con le educatrici del centro permettendo ai genitori di svolgere i loro impegni anche con le scuole chiuse. Lunedì dalle 15 alle 17 gli sportelli del CUP di Rimini in via Circonvalazione saranno chiusi per motivi tecnico-organizzativi. Siamo al calcio in seconda divisione trasferta Sarda per il Rimini in Piemonte per il Bellaria il Sant'Arcangelo ospita il Monza vediamo il servizio di presentazione. Il Rimini 4 punti nell'ultime 4 partite e quarto posto in classifica sarà impegnato nella scomoda trasferta Sassari tana di una Torres che naviga in acque cattive e quart'ultima con 12 punti meno della metà dei 25 dei biancorossi. Osio ancora in tribuna per la seconda giornata di scolifica ritrova sulla mediana capità Marco Brighi. In attacco saranno assenti Baldazza e Nicastro quest'ultimo ha rimediato un piccolo strappo rientrerà tra oltre due mesi. Il tecnico dei biancorossi potrebbe affidarsi al duo Fal Morga il cui caso è stato chiuso dal DS Traini. Alle loro spalle potrebbe agire Catalano. In casi Solana squalificati Bianchi e Guerri. Da una lombarda di Blasono all'altra per la capolista Sant'Arcangelo 31 punti che dopo aver battuto a domicilio il Mantova riceverà il Mazzola e il Monza 24 punti con l'intento di allungare a 11 la striscia positiva. I bianzoli domenica scorsa sono tornati alla vittoria con il Forlì dopo 5 turni di astinenza. Fraschetti potrà tornare a contare su Cole e D'Antoni che hanno scontato il turno di squalifica. Il primo dovrebbe giocare davanti alla difesa ruolo di coperto nell'ultima uscita da Obeng in settimana in Germania per i funerali del padre. Difficile pensare che l'attaccante ex San Marino possa invece partire dal primo minuto visto che la coppia d'attacco Graziani Pasi ha fatturato 5 reti nelle ultime 4 gare e che l'esperto attaccante si è ripreso dal colpo alla caviglia rimediato domenica. Ha disposizione anche il mio acquisto raparo sulla mediana. In casa a Brianzola non ci sarà Grauso squalificato. Il Bellaria, 11 punti andrà a far visita ad un Cuneo, 19 punti che ha appena impattato senza gol con il Rimini. I piemontesi hanno vinto una sola volta nelle ultime 10 partite. Questo dato statistico potrebbe dare coraggio ai Biancazzurri che hanno infilato tre stoppi di fila e che in trasferta non vincono dal 24 marzo 2013. Si attende una reazione dopo le parole di fuoco del direttore generale Ulizio. Jacobelli non potrà schierare Sabatucci e Arzamendia squalificati. Bomber Fioretti è reduci dall'influenza ma dovrebbe essere regolarmente della partita. Il giudice sportivo si è accanito con il Cuneo che dovrà fare a meno di tre pedini importanti una per reparto Antonelli, Amlili e Fanucchi. Per la sedicesima giornata del campionato nazionale di lettanti il Riccione che ha visto partire la tecnico di Napoli e quasi tutti i giocatori ospiterà il Fidenza. Per il diciassettesimo turno del campionato di eccellenza si giocano Ribelle Progresso Alfonsine San Maurese Ravenna Cattolica e Savignanese Faenza e vi ricordo domani dalle 14 in diretta su Icaro TV Icaro Sport canale 211 radio Icaro l'appuntamento con il 92esimo minuto tutto il calcio del nostro territorio con aggiornamenti dai campi e alle 19.30 su Icaro Sport canale 211 overtime della domenica con i servizi e i commenti a caldo. È tutto a seguire il meteo grazie per averci seguito e buona domenica. Grazie a tutti